Un'altra partita per preparare questo campionato, questa primavera è Fortarella. Prima di tutto abbiamo parlato anche con Ilaria, con il mister della primavera. Siamo tutti come società qui orgogliosi di queste ragazze della primavera perché non solo hanno vinto l'anno scorso il campionato, però il lavoro che sta facendo anche il mister è molto molto simile nella filosofia nostra. Quindi palleggio, crescita da dietro, sviluppo dal gioco da dietro, prendere il pallone dentro le linee. Quindi spero e sono quasi sicuro che avranno una buona stagione quest'anno. La primavera quest'anno è una squadra quasi totalmente cambiata perché tante arrivano dall'anno 17, tante sono anche nuove. Quindi stiamo cercando di amalgamare il gruppo in primis e dare principalmente due o tre concetti e principi che io in primis li do. Abbiamo iniziato da una settimana, quindi è stata una settimana intensa, tosta, e però sono contentissima della prestazione che hanno fatto le ragazze, soprattutto l'intensità che hanno messo nel primo tempo. È una settimana che ci alleniamo e soprattutto ora abbiamo due impegni, questa settimana di due partite. Una è stata con la prima squadra e l'altra sarà venerdì contro i ragazzi del 2009 del Foiano, quindi un altro impegno tosto e abbiamo un attimo dovuto anche equilibrare le ragazze per l'impegno che comunque mettono in campo.